È partita la discussione che speriamo possa arrivare concretamente ad un aggiornamento dell'Accordo di Parigi perché la serie storica degli ultimi anni sugli eventi estremi, sullo scioglimento degli acciai, su quello che fino a qualche anno fa la IPCC raccontava come scenari e che oggi si sta concretizzando davvero, ha bisogno di andare oltre quell'accordo storico firmato quattro anni fa nella capitale francese. Ci sono una serie di cose positive, c'è il nuovo protagonismo della Cina sul fronte degli investimenti sulle fonti pulite e il nuovo protagonismo dell'Europa perché la Commissione europea e la Wonderlion hanno lanciato questo programma del Green Deal su cui vedranno destinate risorse economiche importanti, mille miliardi di euro. Bisogna trainare tutti i paesi, anche quelli in via di sviluppo e tutti gli altri paesi industrializzati e con economie emergenti a partire da Basile e dagli Stati Uniti che stanno andando nella direzione opposta. Su questo speriamo che le elezioni presidenziali fra un anno negli Stati Uniti possano far uscire un presidente che pratica la lotta alla crisi climatica e non va dietro alle sciocchezze dei pochi negazionisti che raccontano che i cambiamenti climatici non esistono. Ciao!